SON VALENTINO Non posso crederci, ma come hai fatto ad arrivare i vincini fino al matrimonio? E' stata solo una questione di culo Ma che mi regali per San Valentino? Hai presente la ferrari che abbiamo visto questa mattina? Sì, mio Dio, sì 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 Ecco, ti regalo uno smalto dello stesso colore B throne Cap Style Abonami Solog